Questo è un tema blusso, ma appunto fiorire, che l'ho sentito proprio venire dal Signore, quindi non andate di corsa, a volte in chiesa corriamo sempre, andiamo sempre di prescia. Ma in conferenze come questa, Dio approfitta del fatto che abbiamo più tempo affinché la Sua parola possa scendere in profondità e ministrare alle nostre vite. E voglio ringraziare anche Dio per il mio amico pastore Francesco. La prima volta che l'ho incontrato, venti anni fa, mi stava traducendo. E quella connessione, quell'amicizia ci ha portato per tutti questi anni insieme. Vorrei farvi vedere una slide. Voglio ringraziare Dio per l'unzione e il mantello apostolico che è su di Lui. Vedete, ci sono due tipi di cose che Dio dà a chi ha una chiamata apostolica. Una è l'unzione apostolica, ma non tutti hanno poi la seconda cosa che è il mantello apostolico. E il Signore mi ha dato una parola per questa chiesa e mi ha dato una parola per tutte le chiese che nasceranno da questa chiesa. Il Signore mi ha detto, state riproducendo secondo il vostro frutto, la vostra specie. E il Signore mi ha dato questa parola, ricchezza. Il Signore mi ha detto, tutte le persone che entreranno a far parte di questa chiesa e chiese diventeranno ricche. Spiritualmente, emozionalmente, finanziariamente, psicologicamente. Ricchezza e abbondanza in ogni area della vostra vita. Io sono una donna anche d'affari, ho fatto questo per tanti anni. E quando Dio mi parla di ricchezza, è come se la donna d'affari esce da me. Dice, Dio inizierà a benedire così tanto le persone di questa chiesa, che dalle altre città gli diranno, se vuoi vedere la benedizione di Dio anche in questo lato, vedevi trasferirti in quella chiesa. E ve lo sto dicendo nel nome del Signore. Se possiamo vedere quell'immagine. Ce ne dovreste avere una sul fuoco. Eccola qua. In questi ultimi vent'anni, mentre siamo stati, diciamo, connessi, dovunque abbiamo fatto eventi, si è sempre visto il fuoco di Dio. Perché, ad esempio, per il mio ministerio, dice lei, il fuoco è la caratteristica principale. Quasi venticinque anni fa, il Signore mi ha mostrato qualcosa sul fuoco, che voglio rilasciarvi. Il Signore mi ha detto, ci sono vari livelli di fuoco. Vedete, c'è un fiammifero nella prima immagine? Quello già è fuoco. Ma anche quando diamo fuoco a un piccolo foglio di carta, anche quello è fuoco. C'è un'immagine che rappresenta anche una candela che ha, appunto, la fiammella e poi c'è, diciamo, tutto l'olio o quello che c'è nella lampada dietro. Anche quello è fuoco. E se guardate qui, è come, Dio mi ha mostrato come una buccia, perché in Africa non è meccanizzata, quindi quando si bucchiano, si mettono il fuoco sotto, con la buccia, e tu puoi vedere il fuoco. Il Signore mi ha mostrato anche un forno a legna. Ad esempio, in Africa noi facciamo il pane ancora con la legna, non elettrico. Ma poi c'è ancora un altro tipo di fuoco, che è un incendio, e tu non riesci a vedere né l'inizio né la fine, perché la fiamma è divampata. E il Signore mi faceva sentire che siamo passati dalla fiammella, alla fiamma di carta, a, diciamo, il bracere. Ma il Signore mi sta facendo sentire che questo ministerio, che ha vissuto il fuoco, ma ha vissuto un fuoco contenuto, sta per sperimentare un incendio che raggiungerà tutta la nazione. e voglio incoraggiare tutti voi. Guardate un attimo la vostra vita. Vedete, il fuoco ha vari livelli, ha varie dimensioni. E si stava parlando in macchina mentre venivamo qui, delle esperienze che abbiamo fatto di liberazione, alcune che nel mondo occidentale e altre, ad esempio, in Africa o in India. Adesso voglio farvi una domanda che voi dovete fare a voi stessi. A che livello sei di fuoco rispetto a quelle immagini? Perché dovunque tu riesci a localizzarti, è arrivato il tempo di muovere a livello successivo, o muoverti a livello successivo. Fra qualche istante magari riutilizzeremo questa immagine, ma mentre andiamo avanti, siamo arrivati mercoledì, siamo venuti un giorno prima, e a sorpresa mi è stato chiesto di guidare il meeting di preghiera ieri sera. E qualunque cosa il Signore mi chiede di fare, io la faccio, io obbedisco. E io ho chiesto, Signore, cosa vuoi che faccio stasera? E il Signore mi aveva dato questo soggetto, il fuoco del suo spirito e la pioggia del suo spirito. Io credo che da ieri sera, quando abbiamo iniziato a pregare, Dio ha cambiato qualcosa nello spirito proprio per voi in questa conferenza. Vedete Dio come opera? Ognuno di noi ha bisogno l'uno dell'altro. Ieri quando mi è stato chiesto dal pastore di prendere quella preghiera in mano, lei non sapeva che poi pregando ieri sera saremmo saliti di un gradino e tutto sarebbe cambiato. Quanti c'erano ieri al meeting di preghiera? Grazie per esserci state. Mentre pregavamo ieri, è sceso come un fuoco che ha iniziato a toccarci dentro e a purificarci. Io personalmente nel 1990 ho sperimentato il tocco del fuoco di Dio che mi ha liberato. Non mi vergogno di dire che Dio ha liberato per prima anche me perché abbiamo bisogno del tocco del fuoco di Dio e della sua liberazione. Io posso oggi trasportare il fuoco di Dio perché il fuoco di Dio mi ha prima purificato. Il fuoco di Dio mi ha purificato perché forse non lo sapete ma io vengo da una cultura dove ti fanno fare cose magiche, dove ti fanno passare per diverse anche cose dove abusano di te. La mia vita era un disastro ma sono qui oggi a dirvi il fuoco di Dio mi ha purificato. E sono qui per incoraggiarvi e dovunque vado la gente viene salvata, la gente viene liberata, la gente è guarita, la gente è trasformata per il nome di Gesù. E voglio dirvi anche a voi avevo solo 25 anni quando sono arrivata nella chiesa di Londra. Appena ho conosciuto il Signore l'ho cercato dappertutto nella chiesa cattolica, nella chiesa celestiale, nelle suore, dappertutto in varie chiese metodiste, evangeliche. E mi avevano confuso tutte quelle chiese. e oggi quando guardo la gente che ha vissuto la stessa cosa vedo che c'è tanta confusione e la gente che è sempre lì a preoccuparsi dell'opinione dell'altro. Oggi una delle prime liberazioni che dobbiamo avere è la paura, dobbiamo essere libere dalla paura dell'opinione della gente. Io voglio che sia libero e se Dio vuole che ti sia libero come out and be free in the name of Jesus. Dio ci vuole liberi da ogni intimidazione. quando sono arrivata in quella chiesa benedetta lì a Londra dopo tutte quelle esperienze negative ogni culto ogni preghiera ero lì davanti che mi inginocchiavo ero lì a ogni appello che mi facevo pregare perché ero affamata la gente a volte mi prendeva in giro mi prendeva in giro perché mi vedeva fare quelle cose ma io mai mi sono preoccupata dell'opinione della gente solo di quella di Dio allora c'era una donna che è venuta da me come quasi per criticare questo mio modo e lei ha detto ma se stasera c'è un altro appello ci rivado anche stasera che cosa vi voglio dire è importante rompere ogni barriera ogni tappo ogni coperchio prima abbiamo cantato tu sei la mia vittoria tu sei la mia schiusura Dio ieri ha iniziato un'opera mentre eravamo pochi ma da stasera in poi Dio farà cose per tutti voi mettetevi su quell'altare infuocato spiritualmente parlando e iniziate a chiedere a Dio Signore fa che il tuo fuoco arda in me quando si prega per una liberazione quello che si chiede al Signore mettimi nel tuo forno Signore purificami cento volte perché quello che Dio inizia Lui lo porta fino alla fine e il fuoco di Dio vuole rompere distruggere ogni cosa che vuole rubarti la salute e la gioia ieri erano la chiusura della riunione era presupposta essere alle nove meno un quarto vi sto raccontando un po' del contesto così che capite dove voglio arrivare dopo abbiamo iniziato con la parola chiave obbedire al Signore e ieri dovevamo finire alle nove meno un quarto e l'ho fatto ma il Signore mi ha detto adesso inginocchieti e poi mi ha detto dopo cinque minuti che ero in ginocchio mi ha detto adesso prostrati faccia a terra davanti a me e mi ha detto rimani qui perché voglio ministrare alla tua vita all'improvviso verso le nove il potere di Dio è entrato nella stanza avevamo già detto alle persone buonanotte potete tornare a casa è vero o no ma l'incontro è iniziato alle nove ora come esseri umani avevamo chiuso ma Dio aveva aperto ma cosa ha reso tutto questo possibile? allora ho detto ieri quando abbiamo fatto tardissimo ho detto la colpa è del pastore Tania prendetevela con lei è lei che mi ha invitato io ho semplicemente obbedito la semplice obbedienza ha portato la gloria e abbiamo aperto semplicemente le mani così all'improvviso senza che nessuno pregava per nessuno Dio ha iniziato a toccarci c'è stata una persona che anziché piangere scoppiata a ridere dice una persona non dirò chi è stato perché quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas ha iniziato a ridere nello spirito e tutti sono scoppiati a ridere ora Dio è sceso su quella persona e ho guardato al viso e quel viso sembrava risplendere mentre rideva e questa persona rideva e sorrideva e all'improvviso da prima che piangevamo tutti sono scoppiati a ridere alcuni provavano ad alzarsi ma non riuscivano ad alzarsi il Papa Mario provava a tirare su le persone ma ricadevano giù perché vi dico questo il fuoco ieri ha già iniziato e prima di andare avanti voglio aggiungere ha detto fra qualche istante pregheremo anche quindi voglio concludere il mio dire per poi pregare vedete la sua obbedienza più la mia obbedienza stanno portando un cambiamento già per questa conferenza stamattina sono rimasta in preghiera sulle ginocchia per tre ore e mentre ero lì ho chiesto signore mostrami qual è il collegamento tra il tema di due anni fa che era il fuoco e il tema di quest'anno che è la pioggia dello spirito e noi sappiamo che il nostro tema è appunto fiorire blossom e il Signore mi ha fatto sentire questo che la connessione il fuoco che ha iniziato a operare ad esempio in me nel 1990 un fuoco che ha iniziato tanti anni fa e che ancora continua lui mi ha fatto capire che arriva prima il fuoco poi questa pioggia nello spirito e da lì nasce una fioritura capite la connessione prima quindi andiamo avanti per tutte voi voglio che tutte voi sappiate Dio desidera prima purificare le nostre vite a tutte voi voglio dire come ho detto ieri che la parola di Dio sulle vostre labbra è un'arma potente i segni del Signore accompagnano chi crede nel mio nome nel nome di Gesù noi cacceremo i demoni noi vedremo i malati guarire anche se dovessimo bere qualcosa di velenoso non ci farà male i segni seguono chi crede non solo i pastori non solo donne speciali i segni se tu credi i segni di Dio sono qui per te nel nome di Gesù mi offendo quando qualcuno dice che Dio può usare solo Lui c'è solo un maestro e il suo nome è Gesù tutti noi noi siamo solo servi voglio dire a ognuno di voi lasciate che il fuoco vi purifichi ieri vedete abbiamo pregato poi sono andata a casa e ho avuto altri due incontri di preghiera tra me e il Signore fino a mezzanotte perché Dio ti sposta tra una fiamma e l'altra tra un focolaio e l'altro fino a raggiungere nazioni e una volta il Signore mi ha detto ogni giorno stai davanti a me per tre ore sulle ginocchia e anche stamattina appena svegliata l'ho fatto certe volte dopo un po' non ce la faccio più a stare sulle ginocchia e il Signore mi dice gli dico posso andare Signore sdraiarmi faccia a terra e mentre lo faccio ogni volta il fuoco di Dio scende e spesso gli chiedo Signore perché fai questo il Signore mi dice sono venuto per purificare il mio popolo sono venuto per purificare il mio popolo sono venuto per purificare il mio popolo e portare via ogni cosa che le sta trattenendo le voglio purificare le voglio liberare le voglio portare dove ho promesso voglio condividere qualcosa con voi che ho condiviso ieri un pastore mi ha chiamato questo pastore quella volta secondo me non aveva letto bene la Bibbia dove dice che nel nome di Gesù possiamo cacciare i demoni a volte noi possiamo credere delle bugie del diavolo e le vogliamo imporre anche ad altri e lui mi ha detto Helen guarda c'è una donna nell'ospedale che si sta appunto manifestando sta dando di matto e i dottori non sanno più che fare e io non so che fare allora ho chiamato te puoi andare te vedete dobbiamo imparare questo che solo chi osa mettere il piede sull'acqua potrà forse camminarci quando lui non è voluto andare ho detto vado io il Signore dice sempre obbedisci alla mia voce e obbedisci in modo veloce è interessante che quando i dottori non hanno saputo più cosa fare hanno chiamato me siamo andati in quell'ospedale abbiamo iniziato a pregare per quella donna abbiamo sgridato ogni demone ogni malattia ogni malessere abbiamo sgridato ogni cosa che ci è venuta in mente questa donna ha iniziato a raccontare tutto quello che viveva e anche spiritualmente Dio ci rivelava delle cose che erano successe a lei e facevamo delle domande e Dio confermava tutto in base alla sua testimonianza praticamente questa donna aveva il cancro in tutto il suo corpo ma noi abbiamo sgridato lo spirito della morte e abbiamo dichiarato la vita di Dio abbiamo detto ricevi la vita di Dio questa donna è stata diagnosticata dai dottori malata con questo cancro dappertutto e doveva morire il 10 settembre ma oggi è ancora viva l'hanno portata l'hanno mandata all'ospizio proprio per morire lì e gli hanno detto guarda morirai nei dolori ma questa donna non è morta e non ha dolore e gli infermieri e tutti quelli che sono lì la guardano e questa donna risplende quando entra la vita di Dio nella persona in una persona la luce di Dio si manifesta donne di Dio è arrivato il tempo dove il risveglio si manifesta prima in noi e poi attraverso di noi ognuna di voi in questo luogo ognuno di voi che ci guarda a casa noi possiamo sperimentare la vita di Dio e noi possiamo dimostrare la vita di Dio e quello che sta per succedere ora mentre noi siamo qui questa donna è ancora viva a volte qualcuno di noi la chiama alcune del mio team mi dicono sei viva tutto bene e addirittura dall'ospizio gli hanno detto tu te ne puoi tornare a casa voglio darvi una definizione di fioritura di blossom appunto quando si parla di fioritura si parla di produttività e appunto essere fruttifere non dobbiamo solo pensare alle foglie non dobbiamo pensare solo al fiore se vi ricordate Gesù una volta ha maledetto un fico perché aveva foglie ma non aveva frutto e domani parleremo e continueremo su questo tema ma voglio che voi sappiate che è un comandamento da parte di Dio quello di portare frutto in Giovanni 15 al verso 16 c'è scritto Dio dice non mi avete scelto voi sono io che ho scelto voi affinché andiate e portiate frutto voglio che tu dica a te stessa io porterò frutto e il mio frutto rimarrà io porterò frutto e il mio frutto resterà nel nome di Gesù un'altra definizione pastore che ho ricevuto da secondo corinzi capitolo 2 verso 14 e 15 la scrittura dice che noi siamo quelli che diffondono la fragranza di Cristo io so che come donne noi conosciamo la fragranza sapete tutti che cos'è un profumo immagino sapete spesso noi lo portiamo attorno portiamo la boccetta attorno per spruzzarlo in noi ma anche ovunque questo verso dice che dovunque noi andiamo il profumo si spande siamo noi la fragranza che si diffonde e questa fragranza si chiama Gesù ed è una fragranza che attira è una fragranza che tocca è la fragranza di Dio è la fragranza di Dio che si diffonde attraverso di noi voglio che sappiate è la fragranza di guarigione è la fragranza di potere è la parola di conoscenza è la parola di sapienza è la preghiera in lingue è il potere di Dio che libera la gente Alleluia il nostro compito il motivo per cui Dio ci vuole purificare il motivo per cui Dio ci vuole riempire è così che possiamo fiorire sbocciare e mentre sbocciamo proprio perché Dio vive in noi dovunque noi andiamo noi porteremo il profumo di Cristo voglio che voi sappiate dovunque io vado i demoni fuggono non per forza né per potenza ma per il nome di Gesù e per il suo spirito alcuni vivono di limiti e di paure cose che ti dicono non ce la farai mai c'è una donna davanti a te oggi che non poteva fare quello che sta vivendo e facendo io ero una che si nascondeva quando i profeti dicevano c'è qualcuno qui che si nasconde io ero quella talmente nascosta che nemmeno mi vedevano se qualcuna di voi era con me nel 2019 qui la parola era coraggiosa ma è il processo che Dio sta facendo nelle nostre vite quando l'abbiamo invitato a venire è quello di farlo essere sempre più il Signore della nostra vita e tu gli dici Signore vieni in me e ci sono persone che dicono Gesù vieni nella mia vita però poi fanno la loro vita ma quelle che fioriscono quelle che sbocciano sono quelle che appartengono al Signore sono quelle che si sono arrese al Signore e voglio che sappiate una cosa nella scrittura è scritto che il vostro corpo appartiene al Signore voi siete il Tempio di Dio e per me nel mio nel 1990 ho detto Signore prendi la mia vita prendimi così come sono usami fai di me ciò che vuoi e Dio lo ha iniziato a fare e io sono venuto a dirvi la gente potrebbe dire la gente potrebbe dire la gente potrebbe dire di te ma cosa potrebbe uscire di buono da te dal tuo paese dalla tua casa tu puoi dirgli continua a guardarmi perché fra poco vedrai cose grandi che Dio farà con la mia vita e questo weekend io sono venuta per quelli che hanno fame delle cose di Dio assetate per quelle che hanno fame di sede di Dio e anche le tue amiche se hai delle amiche a casa che non stanno bene se hai delle persone nella famiglia che hanno bisogno noi vogliamo pregare dovunque andiamo noi incoraggiamo tutte le persone che hanno bisogno di un tocco a incinoccharsi davanti a Gesù e noi preghiamo e nel nome di Gesù chiediamo a Dio di scacciare ogni malattia scacciare ogni malessere e a volte sette persone su dieci sei persone su dieci otto persone su dieci le vediamo guarite nel nome di Gesù allora vorrei chiedervi siete pronte ad arruolarvi nella scuola dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo vi insegnerà lo Spirito Santo vi guiderà lui vi darà parole alcune di voi magari dicono ma io non so l'inglese non è la lingua inglese è la lingua dello Spirito non hai bisogno di parlare inglese per aiutare una persona che sta male come essere guarita basta la lingua di Dio alcune di voi hanno avuto una parola da parte di Dio che gli diceva tu andrai nelle nazioni del mondo e predicherai la mia parola devi solo dire sì digli sì al Signore digli sì e mentre dici sì lui ti aiuterà lui ti darà un interprete ti aiuterà ci sono cose come la disciplina della preghiera come il digiuno come leggere la parola come il testimoniare che dobbiamo fare nostro per chi è qui per chi è a casa donne posso incoraggiarvi dedicate un giorno alla settimana per uscire e stare tra la gente perché ci sono donne lì di fuori che hanno bisogno di Dio e Dio un giorno ha detto il Signore ha detto io vi renderò pescatori di uomini per poter pescare a mare bisogna andare a mare per andare a pesca bisogna andare dove il pesce è non aspettare che il pesce venga Dio ha qualcosa in mente per noi ma noi dobbiamo andare il Signore tanti anni fa mi ha sfidato mi ha detto basta fare cose solo in chiesa vai tra la gente e io l'ho fatto e il Signore insieme alla mia amica Comfort ci ha usato all'inizio non vedevamo tanti risultati e poi la mia amica mi ha detto ma sei sicura che era Dio che ti ha parlato perché Dio ha iniziato dopo un po' di tempo anche se non vediamo i risultati a darci frutto e oggi ti sto parlando di preghiera la prima disciplina è la preghiera se tu vuoi avere intimità con Dio se tu vuoi fiorire nella tua vita in ogni stagione guardate il nostro papà spirituale alla sua età è più giovane che mai in ogni stagione Dio ha qualcosa di grande per noi guardate me io ho 63 anni ma io non mi sento ma io non mi sento 63 anni io non me li sento perché quando impari a pregare impari a digiunare la vita di Dio ti ringiovanisce tu sarai capace di saltare anche un muro io sono sicuro che se ci mettiamo a vedere chi prega di più chi digiuna di più non mi stai dietro anche se ho 63 anni non mi stai dietro e oggi sono qui per sfidarti adesso noi pregheremo ma la prima cosa che Dio vuole è che tu tieni in mente che per poterti muovere nella vita come Dio vuole dobbiamo muoverci in preghiera e noi parleremo domani su come si costruisce l'altare di preghiera perché noi costruiamo la nostra intimità con Dio su quell'altare è su quell'altare che Dio distrugge le nostre insicurezze è su quell'altare che Dio ti dà i suoi occhi e tu inizi a vederti come sei veramente e il Signore una volta mi ha detto tu non sei quella che pensi di essere il Signore mi ha detto tu sei quella che io dico di essere per quello ti userò mi adopererò di te Dio lo dice anche a te Dio ti ama e Dio si vuole adoperare della tua vita se qualcuno può dire amene insieme a me se lo ha ricevuto prima di pregare vorrei che tutti voi poteste davvero godervi questo weekend io vorrei che tutti voi poteste capire che se siete disposti a pagare il prezzo che Dio chiede voi sarete usate dal Signore a Dio non possiamo dare quello che non abbiamo vi ricordate i figli di Sheba nella Bibbia erano sette che volevano cacciare i demoni nel nome del Dio che Paolo conosceva voglio dirvi se qualcuno vi dice che voi potete fiorire potete risplendere sulla fede di qualcun altro senza mai leggere voi senza mai pregare voi senza mai impegnarvi voi nel digiuno semplicemente con la fede nel nome del Dio di qualcun altro voglio dirti quella è una bugia dall'inferno quindi prima di entrare in preghiera vi voglio chiedere se volete chinare il capo insieme a me io non vi conosco tutte ma vorrei assicurarmi che tutte qui possano ricevere al meglio in questo weekend e il primo step per ognuno è di avere Gesù nel proprio cuore semmai hai chiesto a Gesù di venire nel tuo cuore o forse hai camminato in passato con Gesù ma poi nella vita sono successe cose che ti hanno allontanato o forse qualcuno ti ha invitato qui e sta sentendo e sta sentendo parlare di Gesù per la prima volta tu sei nel luogo migliore dove potresti mai trovarti e io pregherò una preghiera breve e se tu vuoi pregarla con me cioè vuoi chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore nella tua vita e sai nel profondo del tuo cuore che hai bisogno di Lui dobbiamo come ho detto prima raggiungere l'obiettivo di liberarci da ogni paura dell'opinione della gente ma il primo passo è chiedere al Signore Gesù di venire nella nostra vita e digli Signore Gesù vieni nel mio cuore perdona i miei peccati che la tua parola dice chiunque invoca il tuo nome sarà salvato sarà liberato Signore Gesù io ti chiamo come Signore Salvatore della mia vita io ti ricevo come mio padre mio Salvatore mio Signore nel nome di Gesù se c'è qualcuno qui che ha pregato questa preghiera per la prima volta se hai pregato questa preghiera per la prima volta ti voglio chiedere di alzare la tua mano di farla vedere farmela vedere o se anche a casa online è stata fatta questa preghiera se hai pregato questa preghiera per la prima volta voglio regalarti questo libro vogliamo fare un applauso a questa signora se c'è qualcun altro se c'è qualcun altro se c'è qualcun altro come stasera sono sicuro che la alla fine della riunione ci sarà un dono per voi quando sono andata nel 2008 tra la gente Dio ha iniziato dopo un anno a farci conquistare anime vite anche se solo loro questa serata era stata organizzata solo per queste due signore ne è valso tutto il sacrificio perché il cielo il cielo sta festeggiando per loro stasera festeggiamo anche noi dai adesso vogliamo pregare vogliamo iniziare in questo momento a pregare affinché il fuoco del suo spirito il fuoco del suo spirito se possiamo vedere ancora quell'immagine del fuoco del suo spirito alcuni di voi sanno qual è la visione la rivelazione che Dio vi ha dato semplicemente rilassiamoci Dio sa quello che sta facendo semplicemente diciamo tutti insieme Padre nel nome di Gesù io chiedo che il tuo fuoco il fuoco del tuo spirito venga su di me ora dalla punta dei piedi fino al mio capo iniziate a pregare questa preghiera tra voi e Dio per voi stesse per voi stesse iniziate a pregare voglio ascoltarvi mentre pregate nel nome di Gesù Padre che il tuo fuoco il fuoco del tuo spirito possa venire sulla mia vita dalla testa ai piedi ogni organo ogni organo nel mio corpo possa essere toccato toccato dal tuo fuoco ricevi ora nel nome di Gesù ogni organo nel tuo corpo sia toccato dal fuoco di Dio nel nome di Gesù dalla testa ai piedi nel nome di Gesù la parola di Dio dice se nascondiamo iniquità peccato nel nostro cuore diventa un ostacolo tra noi e Dio e allora ti chiedo chiedi che il suo fuoco purifichi ogni iniquità nella tua vita non pensare che Dio non ti ascolta una volta ho ascoltato una parola nella mia chiesa dove il Signore diceva che la parola di Dio nella nostra bocca questo servo di Dio diceva che la parola di Dio nella bocca nostra è potente tanto quanto la parola di Dio nella sua bocca e quando tu apri la bocca per pregare con la sua parola Gesù parla attraverso di te stasera noi metteremo tutte le nostre debolezze su quell'altare su quel fuoco iniziamo a pregare ora tutti insieme dai Signore io metto la mia vita sul tuo altare fa che il tuo fuoco scenda qualcuno sta pregando con me io non vi sento iniziamo a pregare oh se ci sono persone che soffrono perché sono troppo gelose di a Dio Signore distruggi questa gelosia dalla mia vita Signore bruciala alcune sono piene di paura di spirito di paura io ti comando di lasciare la mia vita nel nome di Gesù fa che il fuoco di Gesù scenda tutti i vizi distruttivi io ti chiedo di pregare ora prega ora per te stessa per te stessa Dio non ti può Dio non ti libera da ciò che ti è amico Dio ti libera da ciò che ti è nemico e se tu vuoi rimanere amico di certi vizi Dio non ti può liberare se hai il vizio della pornografia se hai il vizio di altre cose spezza ora quel potere nel nome di Gesù nel nome di Gesù alcuni di voi sono pieni di rabbia io ti chiedo chiedi al Signore di bruciare quella rabbia nel nome di Gesù alcuni sono pieni d'orgoglio per quello che hanno raggiunto e stasera noi diciamo il Signore dice che Lui non si accosta agli orgogliosi ma agli umili ogni forma di orgoglio nel tuo cuore lascia che il fuoco di Dio scenda o forse sei timida come ero io avevo paura di tutto forse sei anche tu come ero io ma il Dio che ha liberato me libererà anche te prendi autorità ora e di spirito di timidezza di paura io rinuncio a te ora nel nome di Gesù voglio che vai via dalla mia vita lascia la mia vita nel nome di Gesù alleluia thank you Lord thank you Lord thank you Jesus now some of us are well and sometimes I'm not saying I'm not one of those who believe that everything is demon 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 no a volte noi soffriamo di certe cose e non sempre è perché c'è il diavolo dietro ma spesso ci sono cose che invece hanno un'origine diabolica ci sono alcune di voi che non riescono nemmeno a stare con il Signore in preghiera cinque minuti io sono stato in Israele e ho visto quella scritta nel giardino del Semani che Gesù ha pronunciato ha detto non siete capaci di vegliare con me nemmeno un'ora una volta una volta ho dovuto pregare per una donna in America raccontavo questa storia ieri al pastore e il Signore mi ha detto per vedere questa liberazione voglio che digiuni sette giorni ma alcune di noi il Signore non può chiedere nemmeno sette minuti e prima che preghiamo questa preghiera ti voglio chiedere metti la tua mano sul tuo ventre e ti voglio guidare a fare una dichiarazione e ti voglio dire come dice la scrittura fiumi di acqua viva usciranno da me da dentro me fiumi di acqua viva usciranno fiumi da dentro me usciranno fiumi di acqua viva nel nome di Gesù preghiamo ora preghiamo ora che il fuoco possa toccare qualcuna di voi che possa sperimentare